Una finanza diversa e più umana è possibile? Noi di Advice Only pensiamo di sì e crediamo che il web porterà in questo settore, come già in molti altri, una vera e propria rivoluzione. Adviceonly.com è un sito di finanza personale, offre soluzioni per gli investimenti, strumenti per proteggere il risparmio della famiglia, informazioni, formazione e applicativi. Sappiamo tutti che il web è uno straordinario strumento per la diffusione delle informazioni, è un efficace portatore di trasparenza. I mercati finanziari, invece, presentano forti asimmetrie informative. Cosa vuol dire questo? Gli operatori professionali, come banche e altri intermediari, posseggono più informazioni del pubblico. Chi ha più informazioni in un rapporto tende ad approfittarsene a spese del lato debole. Le banche tenderanno a trovare le soluzioni per loro ottimali e queste comporteranno maggiori costi per la parte debole, ovviamente i risparmiatori. Perché quindi i risparmiatori si rivolgono alle banche per il proprio risparmio o i propri investimenti, anche se sanno che offriranno loro prodotti costosi, perché pensano che le banche ne sappiano più di loro. È possibile ridurre lo svantaggio informativo dei risparmiatori? Certo, è possibile. Ecco come. Primo, attraverso il linguaggio. Le banche, i professionisti e i giornali si esprimono spesso con un linguaggio inutilmente ostico e gergale. Advise Only ha creato un blog che tratta le tematiche economiche e finanziarie in un linguaggio accessibile e un'enciclopedia finanziaria sulla falsa riga di Wikipedia, AOpedia. Secondo, l'educazione finanziaria. È fondamentale ed è correlata con la diffusione del benessere e dell'uguaglianza. Educazione finanziaria non significa imparare a fare investimenti speculativi, ma essere preparati per le centinaia di decisioni economiche che, consapevolmente o no, prendiamo nel corso della vita. Chiedere un mutuo, usare una carta di credito, sottoscrivere una polizza vita, risparmiare per la pensione. Maggiori conoscenze possono fare la differenza tra una vita tranquilla e una soffocata dai debiti. Terzo, la condivisione. I social network stanno valorizzando, anche rispetto ai mercati finanziari, una nuova forma di intelligenza collettiva. Le persone possono condividere idee, conoscenze e informazioni in modo del tutto nuovo, veloce e gratis. Inoltre, i social network consentono alle istituzioni finanziarie non solo di parlare, ma soprattutto di ascoltare i risparmiatori. Pare però che non tutti abbiano capito questo punto fondamentale. Advise Only è anche un social network per risparmiatori e investitori. La nostra community si chiama AO People. È uno spazio web in cui mille agli utenti possono, con pochi clic, costruire il proprio portafoglio di investimento, condividere idee e informazioni. In AO People si incontrano risparmiatori, ma anche operatori professionali, il tutto in un contesto paritario e di grande chiarezza e trasparenza. Su Advise Only sono presenti non solo strumenti informativi ed educativi, come il calcolo del rischio e della liquidità, ma anche veri e propri portafogli di investimento, messi a disposizione di tutti gratuitamente. Gli elementi chiave del nostro lavoro sono la trasparenza, il basso costo e la liquidità. Offremo un servizio di consulenza finanziaria personalizzata, indipendente e online, a un canone annuo di 180 euro e un mese di prova gratuito. Il nostro motto è dalla conoscenza che nasce la libertà, anche quella dei risparmiatori.